Siamo andati a lavorare con le oposte, con i suonci, con i suonci, per non perdere la scuola. E' più che il mio paese di senso, la rivoluzione, la rivoluzione. La rivoluzione ha fatto il sfruttamento di lavorare e soprattutto il morte. Le morte di Provence ci sono anche un po' di lungo. Mettete un po' più dietro di un po' di dolce. Il nostro sindaco è adesso il più chiuso. Siamo andati a morire, a tornare davanti a lavoro, per non perdere la polizia. A scuola sì! Sfruttatino! A scuola sì, sfruttatino! Bella, scuola, dei padroni, dieci cento mille occupazioni! A scuola sì, sfruttatino! Sfruttatino! A scuola sì, sfruttatino! Non si può parlare d'incidente quando una botella d'acciaio ti gara in testa e dunque bisogna dire basta perché siamo stanchi dall'attenanza scuola lavoro, qualcosa che trasmette una visione di un lavoro pericoloso e non pagato. Siamo tutti antifascisti, siamo tutti antifascisti, c'è l'assegnazione ma solo tanta roba che cresce dentro me. E' comunque confindustria, l'uridi pezzi di merda sfruttatori, stiamo arrivando! Io gli chiedi no perché questi studenti non vadano a caso, questi studenti sono determinati e guardateci, noi gli altri di Lorenzo... Grazie a tutti!